Ed eccoci di nuovo insieme per affrontare un nuovo appuntamento con la salute dei cittadini. Quindi tornano in studio gli ospiti di ASST L'Ariana con un tema davvero molto interessante perché andremo ad approfondire quello che è il concetto dei centri unici di prenotazione, i CUP e i punti di accoglienza perché proprio da pochissimo tempo, da settembre, è partita la riorganizzazione presso appunto l'ospedale Sant'Anna. Ne parliamo con i nostri ospiti in studio. Do il benvenuto al direttore area accoglienza CUP Monitoraggio Libera Professione per ASST L'Ariana, il dottor Ivan Sternativo. Grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Grazie e ringrazio per essere qui con noi anche il direttore amministrativo di ASST L'Ariana, il dottor Giacomo Boscai. Grazie a voi e buonasera a tutti. Dunque, come ho detto, il tema sicuramente è molto interessante soprattutto perché si vuole andare incontro ai pazienti, quindi agevolare tutta una serie di operazioni, a volte non semplicissime, che magari grazie proprio a questa nuova riorganizzazione potrebbero semplificarsi. Come commenta? No, infatti abbiamo cercato di rendere semplici le cose che prima erano difficili, no? Sempre ovviamente la nostra vocazione è quella di partire dal paziente. Io personalmente sono 25 anni che faccio questo lavoro e mi sono sempre occupato di processi sanitari, percorsi sanitari applicati appunto a processi sanitari. La nostra realtà ovviamente parte da un piccolo vulnus, che è il CUP, che in realtà è in un posto un po' infelice, perché diciamo che Sant'Anna è una realtà un po' chiusa, tant'è che infatti avevamo anche trovato un partner che aveva intenzione di finanziarci un nuovo bancone per spostarlo in un'altra realtà più luminosa, più areata, in modo da poter avere più spazio anche per i pazienti. In realtà poi dopo questa operazione è andata a buon fine, tant'è che se c'è qualcuno interessato comunque a riprendere questo discorso, ben venga, può tranquillamente... Quindi ottimizziamo, è iniziato il cammino, si può sempre fare di più, questo è un po' il messaggio. Sicuramente, sempre migliorarsi nella vita si può. Quindi se qualcuno ha voglia di aiutarci in questa avventura, può tranquillamente prendere contatti con noi e sviluppiamo questo progetto. Quindi partiamo proprio da ciò che è successo, come ho detto in apertura della nostra chiacchierata, da settembre è iniziata questa progettualità di riorganizzazione, il paziente come lei ha ricordato bene è il punto focale, l'obiettivo per il quale lavorare e in ogni poliambulatorio all'ospedale Sant'Anna sono stati creati dei punti di accoglienza. Ecco, partiamo da qua. Esatto. Di cosa si tratta, che cosa servono? Quindi giusto per agevolare il paziente, quindi per non concentrare anche una massa critica in uno spazio limitato, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di, a questo punto, creare il servizio vicino al paziente. Cosa si intende? Quindi al contrario di fatto, siete andati incontro. Siamo andati incontro al paziente e portiamo i pazienti, capito, non al cupo ma nei singoli poliambulatori. Chi possiamo portarli? Ovviamente i pazienti a cui viene erogata la prestazione all'interno dei poliambulatori, da qui il punto accoglienza. Che cosa si può fare in questi punti di accoglienza? Si può fare l'accettazione e i pagamenti delle visite già prenotate e il paziente una volta terminata la visita, se lo specialista prescrive ulteriori controlli, ulteriori prestazioni, all'uscita trovano ancora le persone che gli hanno fatto l'accettazione che sono in grado di poter prenotare tutte le prestazioni necessarie. Quindi questo significa in un unico momento eventualmente portare a conclusione anche dei passaggi successivi che diversamente richiederebbero invece nuovamente magari un contatto telefonico piuttosto che tornare nella sede. Quindi tutto si può svolgere più agevolmente in maniera diretta se serve. Esatto, all'interno della realtà dove tu sei andato a fare la visita. Quindi non devo più andare al cup e poi andare nel poliambulatorio. Quando io entro nel poliambulatorio lì vengo accolto e espleto tutte quelle che sono le formalità amministrative relative ovviamente al contatto che ho in quel momento. L'altra cosa che abbiamo fatto ed è in funzione da tre giorni. Quindi recentissimo. Esatto, si è stato anche preso un pochettino in giro perché mi hai detto di fare il valletto. Sì, perché per mia natura poi provo perché a me piace vedere e capire. Quindi ha testato in prima persona come funziona. Esattamente. Abbiamo semplificato il pagamento e l'accettazione con le casse automatiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima noi avevamo due totem all'interno della sala d'attesa del cup, dove tu potevi in autonomia fare l'accettazione e pagare se dovuta, quindi se non esente, la prestazione. Pagare con carta di credito, in maniera elettronica. Però era un po' articolata la cosa perché ti richiedeva il foglio della prenotazione, l'impegnativa, quindi diventava un po' complessa l'operazione. E dovevi avere anche tutta una serie di ammennicoli che complicano la vita. E poi ricordiamo che magari, insomma, si apprestano a queste operazioni non sempre... Giovincelli. Giovincelli. Diversamente giovani. Diversamente giovani. Diversamente giovani. Ma io stesso ho grandi complicazioni a volte con la tecnologia e quindi può diventare complicato. Ma proprio per l'attenzione che abbiamo anche a chi, diciamo, non ama molto la tecnologia, no? Abbiamo cercato di ridurre al minimo quelle che sono le operazioni e semplificarle. Quindi oggi, oltretutto, la cassa l'abbiamo spostata all'ingresso dell'ospedale, di fronte all'infopoint, in modo che se uno ha necessità ci sono le ragazze dell'infopoint che possono andare in supporto. Quindi persone fisiche che rispondono e che aiutano. Questo è fondamentale. Al bisogno, on demand, come si suol dire oggi, no? Come si dice, certo. Esattamente, possono chiedere il supporto. Però veramente le operazioni sono semplicissime. Basta premere il tasto accettazione, ti chiede di mettere la tessera sanitaria sul lettore del codice a barre. Se non hai la tessera sanitaria, non fa niente, puoi digitare il tuo codice. Fiscale, quindi proprio il massimo della semplicità. Anche quello dà l'accesso all'operazione. Esatto, quindi io posso anche non avere nulla, nessun tipo di supporto. Inserisco il mio codice fiscale, mi compaiono le prestazioni che posso gestire dal totem, che sono quelle che sono state prenotate. Quali sono? Se le ricorda? No, no, no. Tutte le prestazioni che io ho prenotato, l'importante è che la pratica sia stata gestita in maniera completa. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'operatore in prenotazione ha inserito tutte le informazioni necessarie. Quindi questa è una questione a monte. È una questione a monte. Sicuramente sarà stato fatto. Certo. In alcuni casi magari mancava qualche informazione, eccetera. Purtroppo se la pratica è da completare, devi per forza andare al cup. Però anche in questo caso qui ci stiamo attrezzando, mettendo tutta una serie di blocchi alla prenotazione per fare in modo che tutte le pratiche, una volta completate e prenotate, siano a posto. E questo agevola poi dopo a valle tutte queste serie di operazioni semplificate. Certo. Perché io arrivo lì, schiaccio accettazione, inserisco il codice fiscale o leggo la tessera sanitaria. Mi compare tutto il mio bel elenco di prestazioni che ho prenotate. seleziono quella che mi interessa in quel momento, do una conferma e a questo punto se non sono esente ticket, quindi devo pagare, si illumina il post e mi dice avvicina la tua tessera per appunto il pagamento. Se invece sono esente, a questo punto non devo pagare nulla, do la conferma e a questo punto la macchina mi stampa lo scarico a zero se sono esente, la ricevuta se sono pagante, in doppia copia perché una rimane a me, una la consegno al personale dell'ambulatorio per comprovare il fatto che ho pagato e ho accettato. A quel punto mi chiede, logicamente, l'ultimo click che è quello che mi stampa il bigliettino per l'accodamento, cioè il numero con cui mi chiameranno nell'ambulatorio. Sul bigliettino dell'accodamento c'è indicato sia il poliambulatorio dove mi devo recare, sia il punto di attesa, la sala di attesa dove devo aspettare. Quindi è un percorso garanzia o è questo una cosa in più? Perché già questo dà sicuramente molte rassicurazioni secondo me a chi ci sta ascoltando perché si trova sicuramente a poter usufruire di uno snellimento interessante, di una facilità anche nell'arrivare comunque poi davanti alla prestazione e un'assistenza sia tecnologica ma anche di figure personali. Rassicuriamo anche tutti, perché poi qualcuno dice adesso mettono le casse, tolgono. No, cioè non vogliamo togliere il contatto umano con le persone. Io faccio sempre l'esempio del telepass, no? Cioè se io decido di pagare in contanti faccio la fila. Se io voglio andare veloce prendo il telepass e passo veloce. In questo caso qui quello che noi stiamo facendo con tutti questi sistemi, no? Di casse automatiche, piuttosto anche l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico sia per poter prenotare che poter pagare. Perché il fatto, come dicevo prima, di avere delle prenotazioni complete a monte mi permette poi di sfruttare tutte quelle che sono, capito, le opzioni anche tecnologiche. Certamente. Perché ricordiamo anche agli utenti che io volendo posso anche pagare comodamente da casa mia col pago PA. È vero. L'AP io, sia tramite il fascicolo sanitario elettronico, io entro, il mio bel QR code, quando si tratta di pagare, non so se avete provato, quando metti l'onbanking, cioè anche se sei col telefonino distante 8 km, il track prende subito e ti chiede subito il PIN, quindi anche lì facilmente posso tranquillamente pagare. Siamo quasi arrivati alla fine, quindi per forza di cose devo andare da Giacomo, non mi sono dimenticata, ma vorrei puntualizzare proprio su questo ufficio percorso di garanzia. Telegrafici, perché ahimè, insomma... No, sì, il percorso di garanzia è sempre, allora, è un altro servizio che abbiamo messo in campo. Quindi non facciamo spendere intervento, no? In realtà perché, a parte il mio servizio è stato implementato da noi, il servizio per costo di garanzia che cosa garantisce all'utenza? Che se tu vieni allo sportello e non c'è la prestazione nei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla richiesta, quindi sono i famosi U72 ore, B10 giorni, D30 giorni se una visita, 60 se uno strumentale e P120 giorni, se non c'è la prestazione il CUP fotocopia questa richiesta, la manda all'ufficio percorso di garanzia che si adopera per darti una risposta nei tempi previsti e nel rispetto della classe di priorità espressa sull'impegnativo. La ringrazio, ma per una battuta conclusiva voglio necessariamente coinvolgere anche Giacomo. Quindi una procedura sicuramente importante, qual è il suo commento? Ma che per fare tutto questo bisogna anche reclutare le persone giuste e quindi la S.S. Tilariana anche per i profili amministrativi sta facendo concorsi, sta cercando di reclutare persone. La difficoltà di oggi che hanno le aziende sociosanitari è che il reclutamento tramite concorsi è molto lento e quindi per stare dietro a tutte queste innovazioni sarebbe opportuno che le normative nazionali si adeguassero alle nuove necessità e quindi consentissero percorsi più veloci, più snelli, sempre aperti nel rispetto dei fabbisogni approvati da regione e del budget, ma in modo tale da consentire alle aziende di rispondere tempestivamente. I nostri concorrenti, che non sono concorrenti ma sono a volte partner privati, fanno una proposta di contratto e assumono le persone. A noi questo non è consentito. Quindi un appello importante sicuramente. Con questo saluto e ringrazio Ivan Asternativo, grazie. Grazie a voi. Giacomo Boscaglia, S.S. Tilariana Tutta, per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Grazie. Prima di dare la linea alla nostra informazione, vi ricordo che un nuovo importante progetto in città che riguarda la compravendita di immobili di lusso è arrivato a Villa Geno. è stata presentata la partnership tra la boutique immobiliare Comasca, MVP Maieli Vassar Properties e Forbes Global Properties. Simone Maieli e Virginie Vassar sono stati scelti come partner italiani in esclusiva per il Lago di Como, Milano e la Lombardia. Forbes Global Properties è una piattaforma di marketing immobiliare di lusso rivolta ad un target di consumatori di fascia alta che fornisce servizi alle più importanti società mondiali del settore. Alla conferenza stampa era presente anche Alessandro Fermi, assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione. Secondo gli ultimi dati nel nostro paese, il mattone di pregio continua a mostrare segni di solidità e crescita, soprattutto nel territorio della Lombardia e dei laghi di Como e Garda. Attualmente, per Simone Maieli e Virginie Vassar, tra gli immobili gestiti e quelli disponibili alla vendita, il valore complessivo delle proprietà in portafoglio è di 120 milioni di euro. Con questo si chiude il nostro appuntamento. Angoli, Chiocciola, espansionetv.it è sempre a vostra disposizione. Torno domani, ora la nostra informazione. Torno domani, ora la nostra informazione.